Intanto partiamo con un commento sulla partita, la tua squadra ti ha soddisfatto? Sì, oggi abbiamo giocato bene, anche nel primo tempo sempre palla a terra, abbiamo fatto una buona partita a livello tecnico. I primi 15-20 minuti sono venuti bene bene, l'ultimo quarto-dove del primo tempo siamo calati un po' tecnicamente, poi nel secondo tempo abbiamo trovato il raddoppio, poi il terzo e il quarto gol che ci hanno messo in giudato al sicuro e abbiamo giocato con molta tranquillità. È un successo che vi porta dritti alla semifinale? Sì, alla semifinale, ora vedremo chi incontreremo, forse se non mi sbaglio incontreremo Santa Firmina, perché passeremo credo per secondi. Quindi insomma un bel risultato anche visto per la società che era forse qualche annetto che non arrivava alla semifinale addirittura. I tuoi ragazzi come vivono questo torneo, questo Memorial? No, bene, molto bene, sono interessatissimi a proseguire più avanti possibile il torneo, perché comunque fa sempre piacere fare partite, si divertono di più, che giustamente a maggio fare allenamenti, però ecco sono vogliosi di arrivare a domenica e di provare a conquistare la finale. Ok, grazie. Ciao. Ciao. Ciao.